Salve a tutti ragazzi da PierDarkNight91 e benvenuti nella quattordicesima puntata su The Last of Us signori siamo qui con il nostro fratellino caro davvero ci vogliamo tanto bene lasciate tanti bei pollicioni in su condividete commentate non fate le braccine corte mi raccomando apriamo sta porta quindi andiamo appresso a Tommy non so cosa hai sentito dire ma dovresti vedere la città siamo più di 20 famiglie ora Maria e suo padre hanno fondato questo posto per renderlo autonomo ci sono coltivazioni e bestiame ricordi che pensavamo che fosse impossibile vivere così noi lo stiamo facendo bene come fate a difendervi gli adulti fanno la guardia lungo il perimetro c'è anche un recinto elettrificato quando la centrale è in funzione dovete ancora occuparvi degli infetti però chi non deve ma il mondo in cui viviamo forse non deve essere così parli come marlin il cane un cane quelle bacli non è proprio un ma che bravo che sei ok aspettami questi due geni riattiveranno la centrale forse stavolta ci siamo forse io non ho detto niente scommetto che funziona certo fai anche due siamo quasi pronti devono solo riattivare lo scudo non c'è fretta attivate attivate abbassa abbassa vai vai abbassa bene va bene va bene non mi è arrivato siamo pronti dammi un secondo ok pronti pronti avanti vai ci siamo e vai ce l'abbiamo fatta ragazzi ok ok ottimo lavoro ragazzi qualcuno pensi a dare a maria la buona notizia hai visto impressionante no mi devi due milioni di dollari ok ok Joel andiamo a parlare andiamo andiamo è davvero un bel gruppo qui è gente a posto qui hanno una seconda possibilità qui l'abbiamo tutti qui l'abbiamo tutti perché hai lasciato boston i gatti sono finito in una bella avventura fratellino suppongo c'entri qualcosa alla ragazzina c'entra del tutto quella ragazzina ma racconta allora è immune immune a cosa l'ho vista lo solo vista respirare tante spore da battere venti uomini ma niente neanche io ci avrei creduto ma posso dimostrarlo va bene ci credo ma perché proprio qui dovevo consegnarla alle luci ma visto che quelli sono i tuoi uomini potresti finire tu il lavoro e tenerti i soldi non vedo una luce da anni ma sai dove sono va scaricata non ti chiedo molto Tommy mi serve solo qualche pezzo per continuare sulla mia strada cosa ti fa pensare che lo farei per te questo non è per me Tommy è per la tua maledetta causa la mia causa è la mia famiglia ora e quello che mi chiedi non è una cazzo di passeggiata Cristo dai chiedi a Maria di farlo fare a qualcuno dei tuoi nuovi amici anche loro hanno una famiglia Tommy ne ho bisogno no Joel non scaricare ti servono i pezzi ok ma non mi prenderò in carico la ragazzina i pezzi di merda ripagarti tutti gli anni in cui mi sono preso cura di noi preso cura è questo che credi quegli anni non mi hanno portato altro che incubi tu sei sopravvissuto grazie a me ne è valsa la pena Tommy ho porto la cura per l'umanità intera e tu reggiti la parte del fratellino che fregna non siamo più a boston no se mi metti di nuovo le mani addosso non farai una bella fine siamo a bikini boston che cazzo succede? ci stanno attaccando eeeh vedete ancora come si uccide vero? si nooo sono senza gol valdetti non lasciamoli entrare nell'edificio vai 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 carica vai oh non muore crepe in fretta ok manneggia mi scusi? sono senza gol dove sono? dove sono? ah eccolo preso ma non è morto è morto muori e che cosa eh? ci mette tre anni a morire posto? crepati? oh si si grazie dove sono gli altri? è lì ok vai vai col fuego vai vai col fuego vai dove siete? ok 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 e non scappare ok 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 ho visto nulla andiamo al ponte andiamo al ponte andiamo al ponte potete uscire di lì siamo in trappola aspettate aspettate maria maria la chiave dove dove è andato? tommy mi sono perso tommy aspetta al massimo dove sei tommy oh 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 attenzio prendi bella bella si dove sei tommy tommy non lo so è sparito tommy tommy faccio il giro giro tondo quando è brutto il mondo sparito tommy tommy me ne vado? dite voi qui? tommy sto qua andiamo qui? eccoli ce n'è uno qui? ah ma ma tu sei uno dei nostri e ma che cacchio fai? preso 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 l'ultimo colpo dov'è? ma fammi andare avanti va vai oh oh mi muovo una bomba mi dico madonna mia che volo che volo posto? ce n'è un altro? ecco la che arriva strosto ti do fuoco lo vedo e pezzo di fa ti do fuoco io a te vai rivederci cammina tranquillo tommy rivederci finito tutto no 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 madonna che mira di merda vai l'altro l'altro è qui 3 o chiั่o le finte? finte? madò cura cura uru il e basta Fa cagare Vai A posto Ce ne sono altri? Non funziona sta vista qua Aspettami Che Si è intoppata la La gola si è intoppata Ok andiamo Ancora Ma questo è cattivo Si Sparate, sparate Qua giù Ok Qui dobbiamo cambiare Mettiamo questa Vai, vai, scendi, scendi Colpi C'è uno lì No, no, è Ellie quella Amato Su qua stai Oh, oh Aia Dai, 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 dai Veloci, veloci Chi è? Chi è? Arrivederci Ancora Morto? No Ma cagà mori Ellie, sei viva? Ti voglio scaricare, Ellie Apri, apri Apri Buongiorno Oh, ma mi hai visto Tutto ok? Sì, sto bene, sto bene Oddio Arrivavano da tutte le parti Poi Maria ha detto Dobbiamo scappare Senti Piano, piano Ascolta Ehi, sei ferita? No Porca troia Ti devo parlare La musica, la musica È vero, c'è la musica Assolutamente no Digli di trovarsi qualcun altro Maria, non puoi lasciarmi in questa situazione Hai idea di quanti uomini abbiamo perso oggi? Che sta succedendo? Eh Litigano per colpa mia Ne parliamo dopo Ti ha detto dove è il laboratorio? E ne parliamo dopo Do Certo Una cazzata Una cazzata e divento anch'io una di quelle vedove, ok? Io devo farlo Non so cos'altro dire Bene Maria Maria Joel Harry Sarà colpa tua Dovesse succedergli qualsiasi cosa Ti ha riconoscente, sai? Sì, lo so Dai che bravo Tommy Porterò la tua ragazzina alle luci Non devi preoccuparti È meglio per tutti È meglio per tutti Forse stavolta potrebbe andar bene Devo parlare con Ellie Va bene? Ripeti, non ti ho sentito Joel Cosa che c'è? La tua ragazzina La tua ragazzina ha preso un cavallo ed è scappata Cazzo da che parte? Oddio Ho appena visto cavalcare via Torna dentro Aiuta gli altri a pulire Ok Vai Ecco Vedi le tracce? Forza Dai andiamo Oh gira Gira Siamo su cavallo Che bello Vai vai Andiamo andiamo Ellie è scappata perché ha capito tutto Vai 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 Veloci veloci E uno e due E uno e due E uno e due E uno e due Ma che è in imboscata? Ragazzina testarda Eh Non così Non so cosa sta succedendo Sì E due E due E due E due E due E due Mamma mia Come correlli Cioè non c'è problema Tommy Rallenta con i ciuccio Siamo arrivati E quindi? No E gira Dov'è? Da lì da lì Impronte di cavallo È nel bosco Forza Vai nel bosco nel bosco Fanta bosco Fanta bosco Ok bene Dai vai Sterza Cavallino Forza Forza Cavallo Ok Dove? Da qui? Forza Una macchina Una macchina Oh Cazzo sono troppi Ma io ho solo due colti Stai in giro Ti copro Morto Cacchio Ce n'è uno lì Sì No 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 E spara un po' pure tu Niente Oh E basta con sti fuochi qua Fuoco nel fuoco Mi scusi ma Posso E mi scusi eh Ma quello mi ha dato fastidio Mi sta dando fastidio quello Eh ma non ci arriva Mannaggia Come lo piglio a quello? Donna se ti piglio Fancagare Oh Finiti? Madoooo Cagare? Ce ne sono tanti Capuzzella? Capuzzella? No? Chiedo troppo? Uno scappa lì Uno scappa lì Vai giù, vai giù Finiamola Ma fangulo L'altro? Finiti? Ma scusa Ellie come ha fatto? Ce n'è uno lì A chi spari? Ce n'è uno lì? Possibile? Ma perché a me non funzionano i sensi? Possibile eh? Fatemi Armare Ok A me non funziona i sensi Vabbè Andiamo C'è nessuno C'è nessuno Signori? Dove? Ed è Eccolo lì E' lì? Ti troverò Pure io E levati Tommy di merda Oh no Tranquil Fermo così Ciao Ciao Queste armi Molti di voi mi dicono Esplora bene Ragazzi è un wall true Non posso mettermi a spippolare su tutto Perché sennò non finiamo più qua Eeeh No perché molti dicono Eh ma non esplori bene E che facciamo? Perdiamo 40 minuti solo per esplorare? Vediamo se ha capito C'è noi è un wall true C'è cerco di farvi vedere la storia ma Cacchio Eeeh Gigino E' lì Vai vai Tommy I cavalli? Avanti Torniamo ai cavalli Ci sono ancora? Oh si Vai Torniamo ai caccavalli Vai vai Si corre Bene Vai vai Che salti? Fai così Si Ellie E' fortunata eh Ah E' passata prima Che arrivassero quelli Le tracce vanno da questa parte Spero solo che non l'abbiano presa Io spero di si Sì Vabbè come? Che fai? Giro a largo? Tommy Do cacchio vai fai giri a largo? Attenzione Ancora squaccio il cavallo E' lunga la strada eh Lunga lunga eh Quindi Joel vuole sparazzarsi di Ellie Facendo portare lei da Tommy alle luci Mi sono espresso malissimo però Qui finisce Guarda Guarda Vicino al ranch Quello è il nostro cavallo Lei deve essere qui Io non lo vedo il cavallo Ah eccolo La zona sembra tranquilla Sembra E che facciamo? Posso scendere? Ah devo attaccarlo Eh ma che me lo dici prima? C'ho un colpo eh Non fate scherzi Sei colpi qui Fai attenzione Apri Ellie 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 Chi te vei? Rispondi Oh Gesù Cristo Non i sorgi Voi voi dovete parlarvi Do cacchie Ellie Do cacchie Do cacchie Ellie Do cacchie Allora è qui Ellie Sono qui su Dove è qui su? Ci sono tanti Qui Qui Nel bagno Si fa la doccia No Ellie Stupatello Qua bimba minchia Bimbi Nutella volevo dire Scusa È qui Ellie Ma esce Un clicker Ellie Oh Si preoccupavano solo di questo Ragazzi Film Scegliere quale maglietta abbinare a una gonna Bello eh È pizarro Alzati Andiamo su E se dicessi di no? Ti rendi conto di quanto valga la tua vita? Eh? Scappare in quel moto Metterti in pericolo Sono gesti stupidi Beh allora direi che la delusione è reciproca Che cosa vuoi da me? Ammetti che è dall'inizio che cerchi di sbarazzarti di me Tommy conosce questa zona Oh fanculo Senti mi dispiace mi fido più di lui che di me stesso Basta con queste stronzate Cos'è che ti preoccupa tanto? Che faccia la stessa fine di Sam? Non possono infettarmi So badare a me stessa Quante volte ce l'abbiamo fatta per miracolo? Beh finora ce la siamo cavata bene no? E ora te la caverei anche meglio Con Tommy Cattivo Io non sono lei sai Cosa? Eh? Maria mi ha parlato di Sara E io No non lo fare Stai scherzando col fuoco Attenta a quello che dici Mi spiace per tua figlia Joel Ma anche io ho perso qualcuno Tu non hai idea di ciò che significhi Tutti quelli a cui volevo bene Sono morti O mi hanno lasciata Oh mamma mia ragazzi Tranne te cazzo E non dirmi che sarei più al sicuro con qualcun altro Perché la verità è che avrei solo più paura Per favore Potete togliere questa musica Bravo Joel Tu non sei mia figlia E io non sono tuo padre Io non sono tuo padre E ognuno andrà per la sua strada State pronti Non siamo soli Che palpebre Due stanno entrando Dentro ce ne sono altri Non ho colpi E mo moriamo tutti Guardala Se mai non c'ho colpi Dove ti nascondi Rotti in culo Mannaggia Oh non c'ho un cacchio Stealth, stealth Tutti stealth eh Facciamo le cose stealth Eh questo viene da qua Figlio di puttana Uno No 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 Dispiace ma non posso morire adesso Troppo presto Dov'è? E qui so Sì Dispiace Ok Ce ne sono altri? Forse è giù Che cacchio devo fare con quattro colpi Andiamo andiamo Tommy Bene Resta qui Sono morto? Sono morto? Aia Ci siamo colpiti a Vicenza Aia Ma questo ci è un potente Ma va a cacare No 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 niente Ho poca vita Ho bella già Brutto pezzo di fango Aia Aia Qualcuno mi aiuti Aiutatemi C'ho nulla E spara un po' pure tu Non lo prendo E li Esci con la capuzzella di merda La capuzzella Aspettai Capri Non c'ho nulla Ma so cacchi Dove è andato? Eh l'ho visto E' morto E' morto E' morto C'ho solo un colpo Ok La casa è vuota Oh Sei Torniamo ai cavalli Oh mamma mia raga Pochi colpi C'è niente Esploriamo un pochettino C'è niente Andiamo Torniamo ai cavalli Ai caccavalli Che cos'è questa? Sbam Bene così Vai Vai C'ho poca vita eh Non fate scherzi Fate scherzi Via libera Ok Non hanno fatto scherzi Vuoi una mano? Ce la faccio Eh Non è semplice per Ellie Dopo che ha perso tante persone poi Non vedere più Joel Oppure comunque il contrario eh Perché Joel vuole sbarazzarsi perché ha paura di perdere Ellie Perché ha già perso una figlia E non è semplice poi perdere anche Ellie Quindi evitare di continuare con Ellie perché per lui si sono salvati per un pelo E' importante per lui non vedere Ellie morire nel caso qualcosa dovesse andar storto Vediamo Quindi Tommy adesso Ha questo compito Eccola la Cosa? I bimbi stanno a casa stasera Dov'è quel laboratorio? E' lontano da qui, Università del Colorado dell'Est Forza Big Orts Forza Big Orts Ellie scendi da cavallo Dallo indietro a Tommy Continueremo solo con lui se per te va bene Seiii Dai non farmi ripetere le cose Che stai facendo? Dai Mi fa un po' paura Non voglio che mi dia la caccia Scusa, se ho rubato il tuo cavallo Dai, torna in città Parliamola almeno Mi conosci? Non cambi idea, quasi mai Università del Colorado dell'Est Ok C'è il livello Edificio di scienze Sembra uno specchio gigante Non puoi sbagliare Dai Andiamo, andiamo Forza così Dai, Tommy C'è posto per te qui Lo sai? Sì, ma il problema è brin 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 Non mi dà fastidio Non mi date copyright? Addio, fratellino Addio, Tommy Fammi parlare se mi dai copyright Forza, forza Finita la musica Qua è copyright sicuro, signori Qua è copyright sicuro Quindi, signori Aspettate, eh Ho sei colpi Dove andiamo con sei colpi? Lo scoglietto Parca puttino lo scoglietto Si, si chiama turnover E si copri dieci yard E allora torni Al primo down? Esatto Al primo down Primo down Che casino Basta giocare un paio di volte Poi tutto ha senso A posto ragazzi Va bene Io chiudo qui questa quattordicesima puntata su The Last of Houses Lasciate un bel like Condividete Come? Non è colpa mia se non hai chiesto il suo nome a Tommy Callus Ai piedi Condividete, commentate Lasciate un bel like Ci vediamo nella puntata numero 15 Bacione a tutti Ciao Arrivederci Grazie a tutti